ma guardate un po' che roba io devo andare a zappare la terra questa è casa nostra io devo passare qua non c'è nessuna ordinenza né del prefetto né del comune che vieti di poter passare questa roba non sta né in cielo né in terra perché non possiamo passare state rifandendo i soliti modi state rifandendo chi distrugge chi ne basta basta che vi guardate intorno per vedere che cos'è il progresso è un deserto stanno devastando i luoghi in cui viviamo siamo assolutamente pacifici a noi non interessa scontrarci con la polizia non è questo quello che noi vogliamo fare chiediamo solo di poter andare dove siamo sempre andati perché là c'è il nostro presidio ed è assurdo che non ci venga permesso di passare è un'ingiustizia tanto ce la prendiamo siamo pacifici siamo pacifici noi non abbiamo nessuna intenzione bellicosa nessuna nessuna ordinanza mi è del passaggio su questa strada fettici passare perché non possiamo passare perché non possiamo passare perché non possiamo passare non è difficile no no stiamo andando a fare una grigliata se permette non ho capito io no perché e quindi se è una manifestazione non possiamo passare dite agli uomini per favore di stare calmi e tranquilli con i manganelli noi non vogliamo scontri noi siamo persone tranquille vogliamo solamente andare dove siamo sempre andati fate indietreggiare questa gente questa è casa nostra è bello